Buongiorno, siamo qui con Pierpaolo Galbusera che è un professionista con cui stiamo lanciando un incontro che si terrà virtualmente su APTV il 15 aprile alle 11. Questo incontro doveva essere realizzato in aula un po' di tempo fa ma poi questa emergenza sanitaria, questo tsunami ha colpito anche noi e noi abbiamo pensato che a volte per evitare lo tsunami basta essere un po' sopra l'onda e quindi noi per essere sopra l'onda andiamo con APTV e quindi in diretta virtuale. Oggi chiedo naturalmente a Pierpaolo Galbusera di presentarsi un attimo, di dire che cosa fa ma soprattutto che cosa, come impatta sulla vita delle aziende. Buongiorno a tutti, sono Pierpaolo Galbusera, il mio lavoro è semplicemente quello di aiutare le piccole e medie imprese ad esportare. Ho trascorso una vita in azienda come commerciale estero e poi anche amministratore delegato e da dieci anni sono un libero professionista e appunto aiuto le piccole e medie imprese a sviluppare i loro progetti di export. Durante questi dieci anni ho collaborato con diversi settori più disparati e ho visto che nel insegnare diciamo così alle aziende ad usare un metodo c'è appunto una sequenza di cose da fare che si ripetono indipendentemente appunto dal settore di appartenenza. c'è un metodo proprio. Questo metodo alla fine ho voluto metterlo nero su bianco un anno e mezzo fa e ho pubblicato un piccolo libro che appunto si intitola esportare in sette mosse e che racconta quali sono le attività propedeutiche che un'azienda dovrebbe fare prima di prendere la valigia e andare a trovare i propri clienti all'estero. Ecco quello che ti chiedo Pierpaolo è anche questo tu hai parlato naturalmente da operativo da prima da imprenditore poi da consulente che entra nella vita delle aziende per provare a dare un po' di metodo a quello che le aziende probabilmente già fanno se non tutto almeno in parte e magari non riescono a rendere coerente. Allora ti chiedo questo però perché un consulente decide appunto di scrivere un libro in un paese in cui nessuno legge più e in cui oramai si dice che tutto quello che si cerca lo si trova basta metterlo su google. Perché scrivere un libro? Ma allora beh intanto è una piccola soddisfazione personale se vogliamo questo va detto. Poi io mi sono reso conto che la bibliografia che c'è su questi temi dell'export è molto spesso troppo accademica cioè serve poco a chi è operativo sul campo. Il mio libro o meglio libretto perché sono 100 pagine se avrete l'occasione di leggerlo si legge in due tre ore vi renderete conto che è quasi una guida operativa quindi diciamo che è un libro sì fino a un certo punto ecco. Sì io quello che poi quello che mi ha colpito avendo letto il libro è questa anche scelta no delle delle sette mosse che poi alla fine questi questi numeri servono anche proprio a dare una cadenza no una sorta di sequenza di attività e quindi in questo caso se quello che mi ha colpito è che non ha usato il set per i sette peccati capitali dell'export che probabilmente ci sarà si potrebbe anche scrivere e non dire un libro dove si dice che cosa evitare ma questo è più divertente perché è come imparare ad esportare in sette mosse come se fossero sette giorni di una ideale no settimana e devo ammettere che quello che mi è piaciuto del del testo è che mette in pratica una sorta di concetto tipo meglio fatto che perfetto e quindi il momento migliore per iniziare ad esportare a fare queste attività non è domani ma è già oggi perché così puoi naturalmente impostare tutta una serie di attività non so se è d'accordo con questo tipo di approccio. Questo è uno dei principi ai quali io mi sono ispirato e cioè voglio dire io sono in azienda ogni giorno collaboro con gli imprenditori e quando per esempio si chiede a un imprenditore di dedicare del tempo all'analisi del mercato molto spesso c'è un po' di irrigidimento dall'altra parte l'imprenditore vorrebbe che dopo due ore che sei in azienda tu cominciassi a telefonare i clienti e cominciassero arrivare magari già le richieste di offerta non dico gli ordini ecco e quindi diciamo che ci sono delle cose da fare un po' analitiche però le dedico a queste cose più più diciamo di approfondimento delle poche giornate poco poco tempo ecco perché poi sono consapevole che è importante iniziare subito con la parte operativa e che comunque sarà anche la parte operativa che mi aiuterà a far luce su come è fatto un mercato quali sono gli interlocutori e quindi diciamo a proseguire nella mia analisi come ha detto anche qualcuno si fa marketing vendendo alla fine ecco quindi c'è una fase di analisi ripeto ma non è una fase lunghissima ecco le sette mosse come dicevi sono proprio sette giornate cioè molto spesso io lavoro sia come temporary export manager come commerciale estero part time ma anche come consulente quando lavoro come consulente mi sono accorto in questi dieci anni che molto spesso le attività si concretizzavano in sette giornate che poi diventavano quattordici mezza giornate e ogni giornata era dedicato appunto uno di queste attività ripeto un po' propedeutiche prima di prendere la valigia e partire ecco quello che poi a me ha colpito ed è l'ultima domanda che ti faccio Pierpaolo poi diamo appuntamento a tutti il 15 aprile alle 11 quando avremo questa aula virtuale dove in realtà non presenteremo nel vero senso della parola il libro ma parleremo di questo di questo metodo io vedo questo metodo come una sorta di prontuario per l'imprenditore come vade me con diciamo così come viatico per l'export ma anche come una sorta di manuale per chi all'interno dell'azienda debba poi seguire queste attività è come se tu stessi dando dei riferimenti per una sorta di allenamento che deve essere fatto continuamente no nel senso che queste abitudini positivi all'export devono diventare piena dell'azienda è quello che fa se ho intuito bene un allenatore un coach come va di moda dire adesso che dà delle competenze dell'abilità e poi naturalmente il compito dell'atleta o dell'azienda di sviluppare queste competenze che devono diventare una sorta di dna naturalmente dell'azienda perché non penso che esportare in sette mosse voglia dire che dopo sette giorni il lavoro è finito no direi proprio di no è vero quello che dici allora diciamo questo che io io dico un po che queste attività andrebbero fatte una volta all'anno un po come una volta all'anno facciamo il bilancio dovrebbe essere in questo periodo no e quindi vediamo un po la dinamica economica e finanziaria dell'azienda quale è stata nel 2019 dovremmo contemporaneamente dedicare del tempo anche a manutenere diciamo questo nostro questo nostro progetto export per capire se non sia il caso di calibrare qualcosa di regolare qualcosa e partire e partire meglio per l'anno che ci sta di fronte ecco poi diciamo che soprattutto oggi di questi tempi il mercato già prima già l'anno scorso negli scorsi anni era un mercato che io definisco iper competitivo cioè un mercato nel quale è sempre più difficile vendere dopo quello che è successo nell'ultimo mese diciamo che una riflessione per capire come ripartire direi che è doverosa quindi diciamo è un è un'occasione appunto per fare un check up e ripartire col piede giusto ecco poi ultima cosa io quando appunto lavoro come consulente affianco proprio l'imprenditore o il commerciale estero il figlio dell'imprenditore e facciamo questo percorso insieme in inglese si dice un training on the job cioè facciamo le cose insieme proprio perché questi strumenti voglio che entrino nel patrimonio dell'azienda in modo tale che poi l'azienda possa appunto ripetere queste attività ripeto auspico almeno una volta all'anno bene io ringrazio Pierpaolo Galbusera di questo tempo che ci ha dedicato vi diamo appuntamento il 15 aprile alle 11 in aula virtuale all'api riceverete tutte le comunicazioni e dove vedete questo filmato ci saranno anche tutti i link per iscriversi e quindi vi diamo appuntamento la per questo che diventa una sorta di prima seduta di uno yoga dell'export alcuni esercizi da mettere in pratica per poter sviluppare il proprio export soprattutto come dice Pierpaolo Galbusera provare a ripartire per quando si potrà tornare alla normalità anche se sarà una normalità diversa perché naturalmente da queste situazioni si esce comunque diversi grazie ancora e buona giornata a tutti grazie e arrivederci